Sì, allora partiamo proprio dalla Standing Ovation che ti ha dedicato tutto lo stadio olimpico quando sei uscito dal campo. È questa la tua migliore stagione? Perché anche a Palermo hai fatto benissimo, ma forse è questa continuità anche nei golf, in adesso 10. Oh sì, sono contento, voglio ringraziare il pubblico che oggi è venuto, tanta gente, hai spinto tanto, perciò questo ci dà solo carica per far bene. Oltre alla tua tecnica brasiliana, la differenza la fa anche la forza fisica che hai? Perché ti abbiamo visto segnare dei gol veramente di potenza. Sicuramente c'è tutto un lavoro dentro, ringrazio anche tutto lo staff tecnico che ci permette di fare questo tipo di lavoro durante la settimana e poi la domenica ci ritroviamo. Caresta ha detto che è stata una partita molto divertente, è andata a Sprat, ci sono stati alcuni momenti dove la Juventus ha sofferto. La differenza tra Juventus e Milan è stata anche nelle palle alte, non soltanto per quanto riguarda in avanti ma anche dietro? Sì, è stata, comunque è stata una bella partita. Il Milan sappiamo che è una grandissima squadra, è una squadra che dirà la sua nel campionato, perciò se abbiamo vinto è sicuramente merito nostro perché abbiamo saputo mettere in difficoltà il Milan. Come regalo di Natale non è arrivato il passaporto, si può sperare che arrivi con la Befana? Eh magari!